60 secondi Scusate 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 60 secondi Ci sono ragazzi, non mi vedete ma ci sono Mi vedete, mi ricevete forte e chiaro? Datemi un feedback Mi sentite? Ho messo il microfono Non so se funziona anche qua su Instagram però Me l'ha consigliato il nostro videomaker Quindi datemi un feedback, mi sentite bene Scrivetevi in chat se mi sentite quantomeno Ok, 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 un po' di persone Ciao a tutti ragazzi Però mi sentite? Ditemelo, sì, no Se no è un macello, posso fare una live Senza che mi sentiate Quindi Non so se mi sentite, ok top, grande Giuse, se no non capisco, bella Come siamo ragazzi? Oggi è sabato Com'è questo sabato? Da che parte del mondo Vi state collegando? Forte, chiaro, grande Top, meno male, audio perfetto Ottimo, 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 ottimo Grandi Allora, guys Live super improvvisata Avete fatto un po' di domande ieri al box domande Quindi pensavo di rispondere un po' a quelle domande lì Nel frattempo Facciamo un po' di dialogo mentre le persone entrano Cesenatico, top Come si sta lì? Quanti gradi ci sono a Cesenatico ad oggi? Che da quando sto qua a Tenerife sono abbastanza un fissato con la temperatura Sotto i 20 gradi Inizia a storcere un po' il naso C'è qualche studente qua dentro? 5 gradi a Cesenatico Complicato Non easy 5 gradi Ho fatto un mese in Italia che stava tra i due Picchi di 10 gradi, 12 Non era facilissimo Dicevo c'è qualche studente qua dentro? O tutti quante persone che non fanno parte del percorso? Se c'è qualche studente Fatevi sentire, fatevi vedere Meno 7 Meno 7 gradi è pesante Meno 1 Parma Non scontato Se può farvi piacere qui in questo preciso momento ne ho 23 Non vi farà piacere, mi insulterete però insomma Vabbè Parto Rispondo a un po' di domande che mi avete fatto ieri nel box Così Andiamo diretti al punto Top Grande Daniel Studente Ciao Nicola Come stiamo? Normale Inverno Sì però anche qui è inverno Ma ci sono 23 gradi C'è inverno Inverno Parlavo ieri sera con una persona Ieri che era al nord Grande Riccardo studente Top Che mi diceva Un ragazzo inglese Che lui fa business Mi diceva Superato una certa soglia Prima la temperatura Il clima La temperatura Era una cosa che ti capitava Ti svegli la mattina Dici cazzo Speriamo che oggi ci sia Ci sia il sole Dopo diventa una cosa che puoi scegliere Scegli di andare a vivere in posti col sole Con temperatura diversa e così via I barbieri a tenere ci sono No ma va Stiamo nel terzo mondo No barbieri Figuriamoci No no Non diciamo cazzate Sì che domande Sì certo Mi fate questa cosa sui capelli Mi prendete per il culo Da il 2019 2020 Ma a me piace così Quindi cazzo me ne frega Allora Questa non è una domanda Però la riposto uno studente Non so se la vedete voi Sì Sta arrivando la mia onda di obiettivi Grazie a voi Grande Grandissimo Non mi fa vedere il nome della persona Che me l'ha fatta Qua mentre sono in live Però fa niente Grazie a noi sì Per le informazioni Per i mezzi di supporto Ma sicuramente anche grazie a te Che ti sei fatto il culo Perché sennò non Una cosa senza l'altra Non porta al risultato Quindi grazie a noi Grazie a te Grazie al processo Grazie a tutti quanti Molto contento E non vedo l'ora di fare una bella intervistina Anche con te Ah ok Ti piacciono così? L'ho letto Ah ok Adesso non lunghi ci stai Sì Se mi piacessero corti Taglierei i capelli Li farei corti Logicamente Vabbè Domanda Calciatore preferito Calciatore preferito Valentino Rossi Non seguo il calcio Quindi Nessuno Ora dove ti trovi? Tenerife Vivo qui Quindi sì Tenerife Poi magari faccio vedere un po' Adesso sul terrazzo Il sole di oggi Allora Altra domanda Quanti formatori sulla vendita? Alcuni oltre a voi Molto in gamba Ma siete in 5 barra 6 Altri male male Non voglio fare il figo Ma 5 barra 6 Faccio fatica a contarli Ce n'è qualcuno che conosco Che ha preparato Che sa quello che dice Ma secondo me Non arriviamo a 3 totali Se devo essere sincero Quindi gli altri 2 barra 3 Che mancano Non mi ricordo Però ci credo se li sai tu Ci sta Gli altri male male Ragazzi La storia che facevo qualche giorno fa Era serissima Non so se avete visto Le prime settimane di gennaio Una miriade di persone Che Si improvvisano Coach sulla vendita E tutto quanto Quello che dico io E che consiglio Se c'è qualcuno Qua in live adesso è Sembra questa cosa Non è sufficiente Insegnare Le nozioni Trite e ritrite Alle persone Sarà avere un ecosistema Di collaborazioni Tra aziende che vogliono venditori Direttori venditi Che vogliono venditori Venditori formati Da inserire Nelle realtà aziendali Che di conseguenza Ottengono risultati E tutto quanto Ok? Si ma fai i nomi Di queste persone Solo e solo gossip Non è consigliare I nomi di chi? Di persone che non ritengo valido? Cioè In che universo valido dovrei fare Dei nomi di persone Che non ritengo valide? Perché? Chi lo farebbe mai? Non avrebbe senso Marco Capelli Che onore Grande Marco Come siamo? Visto che sei a Disneyland Paris Non è male Allora La tua grande ambizione La mia grande ambizione La mia grande ambizione È essere libero Essere felice Non ho ambizioni Megalomani Nel senso che Per me Già avere Tranquilità Felicità Libertà Libertà A livello personale Professionale È un risultato enorme Che a 24 anni Ho Al giorno d'oggi Quindi sono molto contento di avere E Che voglio mantenere Per il futuro Per me Per la mia famiglia Per le persone che voglio bene Quindi questa È la mia grande ambizione Parlavo sempre ieri Che ero al nord Con dei miei amici Anche loro che fanno business E quant'altro E Quello che è uscito fuori Mi ricordo una frase Che ha fatto un mio amico Che ha detto La La libertà Si ottiene con Libertà a livello economico Buone persone E salute Sette Queste tre cose qua Allora sei a cavallo Quindi la mia grande ambizione È Poter mantenere quello che mi sono costruito In questi anni Per Altri tantissimi anni Senza Necessariamente Lamborghini E compagnia bella E Essere tranquillo e felice Questo Ed è questo quello che Quello che insegna le persone Quello di Non Non Vedere Il successo Come uno status In cui sono necessari Vesiti griffati Macchine di lusso Orologi di lusso E tutto quanto Il successo è Una cosa che è strettamente individuale E dipende molto Da quello che sei Da quello che vuoi Da chi vuoi essere Compagnia bella Quindi Il successo Non è necessariamente Fare I milioni Vivere a Dubai Prendo Dubai Come esempio E trasferirsi all'estero Lo successo è essere felice Con le persone che Con cui stai bene E facendo le cose che ti fanno stare bene Questo Un anno fa Come adesso Ho conosciuto i social Samuel E da lì Oggi sono una venditrice telefonica Da 5k mese Grazie a lui e al suo team Grandi ragazzi Grandi Leggere queste cose qua Oh bellissima questa cosa Leggere queste cose qua in live È sempre bellissimo Perché Vale il triplo Sono 30 e passa persone che lo leggono Mi fa molto piacere Grandissima Davvero Super 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 contenta Grande Emma Poi 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 Posso farlo Questo Questa è la velocità per me Ho 24 anni Vado a Tenerife Ogli pomeriggio vado a surfare molto probabilmente Con dei miei amici Ieri abbiamo fatto il giro dell'isola Siamo arrivati fino a nord A vedere 7 metri di onda E Ho degli amici bellissimi Sono in salute Sono felice Questa è la velocità per me Lavoro Faccio un lavoro che amo E faccio Ottenere grandi risultate Le persone che Si affiderano a noi Quindi Questa è una grandissima velocità Da chi hai studiato per fare il tuo infobusiness Big Fare prima dirti da chi non ho studiato In parte anche da lui sicuramente Ma da altre decine se non più Più persone Più 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 di persone assolutamente Quindi Dall'America L'Italia Ma anche altri mercati Che non sono né americano né italiana Un sacco di persone Sì Se ti riferisci a una persona Ragazzi basta Fai polemica BasicPilot 3 Basta fare polemica La settima volta che mi fai domande polemiche Dai Ormose ti piace sempre? Sì Tutte le persone intelligenti mi piacciono Le persone che hanno voglia di fare qualcosa mi piacciono Le persone noiose No Che impatto avrà secondo te l'IA sulla professione del consulente telefonico? Il consulente telefonico nasce per bypassare quelli che sono gli acquisti senza la variabile personale Quindi acquisti relativi a o comprare bottone, comprare su Amazon, compare mille cose online e così via Superato un certo prezzo è necessario avere un confronto con un consulente o con qualcuno che parli con te Che ti dica realmente se quello che stai comprando può avere o può non avere senso per te Ok? Quindi l'IA sarebbe un passo indietro Sarebbe tornare Sarebbe tornare indietro Sarebbe ricreare il problema per cui il venditore telefonico è la soluzione Quindi non avrà impatto Allora Qualche esempio più comune di un servizio o un prodotto vendibile per una azienda telefonicamente? Ma servizi di consulenza, servizi di marketing per aziende Abbiamo studi che vendono arredamento di lusso Quindi tavoli di lusso, divani di lusso Collaboriamo con aziende anche nel settore automotive Quindi noleggio auto di lusso e compagnia bella Quindi qualunque cosa Qualunque cosa Ma che polemica È solo per capire da chi studiare e da chi no Ci sarà un SSP2.0 Sam State pronti Ci sentiamo a febbraio Sarà un mese divertente Comunque Baticpilot Per tornare alla domanda di prima Non penso che sia uno scammer Anzi 8 milioni a 6 ha generato il russesso Io non mi sto arrivando a nessuno in particolare Ok? Quindi Sia fatto 8 milioni 9, 10 Non è un mio problema Quello che sto dicendo Io non sto dicendo che la gente è uno scammer Ok? Non sono parole uscite dalla mia bocca E mai usciranno dalla mia bocca Quello che sto dicendo è che Per poter lavorare Poter far ottenere risultati In questo settore Nella vendita Non è sufficiente fare un corso È necessario avere un ecosistema Che sia finalizzato A creare quel collegamento Azienda venditore e quant'altro Noi garantiamo L'inserimento nella azienda Di ogni singolo studente Ok? Questo è quello che Fa ottenere risultati Ok? Questa cosa fa la differenza Se Quello che fai È vendere un corso O vendere consulenze È utile Ma è il 50% Di quello che serve Per far ottenere risultati Questo sto cercando Ma non sto parlando di Scammer Lungi da me Dare dello scammer a nessuno Ci manca Come si fa ad entrare in questo lavoro? Fai un colloquio? Sì, sì Facciamo Facciamo delle consulenze private Direttamente con i nostri consulenti Per farla Ti invito a scrivermi in chat Qua su Instagram Ci facciamo una chiacchierata Se mi rende conto che ha senso farlo Ti fissi una call direttamente con un coach E se in call Tranquillamente Ti toglie ogni dubbio Ogni domanda Ogni curiosità Anche il coach Ci toglierà dei dubbi su Quelli che sono i tuoi obiettivi La tua situazione di partenza La compagnia bella Se c'è un match Quindi se Noi siamo interessati Ad avere una figura come te Nel percorso Tu sei interessato a fare Quello che è il nostro percorso Allora Si può Si può entrare Ciao Sam Grande Patrick Quante aziende c'erano monitori telefonici? Non ne hai idea Allora Ho fatto il calcolo L'avevo condito con gli studenti Il 31 gennaio Il 31 dicembre Pardon E Dico che Faccio una stima Più o meno In decine Da L'1 di novembre A oggi Quindi Due mesi E 13 giorni Indicativamente E Ci hanno contattato Abbiamo Non ci hanno contattato Ci contattano Molte più aziende Di queste qua C'è una scrematura Da parte del nostro team Perché sennò ovviamente Tutti quanti Non potremmo accettarli Ma in termini di qualità dell'azienda Va scremata E tutto quanto E Abbiamo Condiviso ai nostri studenti Più di 70 realtà Circa 65 70 Più o meno Ho fatto il calcolo matematico L'ho fatto nelle stelle settimane fa Pubblico Una realtà aziendale nuova Scremata Quindi che deriva da un processo di scrematura Di altre realtà aziendali Che non sono in target con noi Ogni giorno e mezzo Barra due giorni Quindi tante Tante Farvi capire In questi giorni Abbiamo una lista d'attesa di Ancora 4 o 5 realtà che devono essere condivide con gli studenti E ho dovuto dire di no a due o tre realtà in questi giorni Perché Perché Mancano venditori per le realtà aziendali Abbiamo chiuso una collaborazione qualche giorno fa con una Un'azienda che Giuseppe, farvi capire Ha un Un Capitale sociale di 700.000 euro Ok? Che acquisisce circa 6.000 lì dal giorno Per farci capire Ok? Quindi Diciamo che Questa azienda Necessiterà di molti venditori Altre domande Allora Mi sono perso di domande Ah qui Mi sono perso di due Ok Vorrei fare la closer Come si fa ad entrare Possiamo fare un colloquio Guarda Ti dico una cosa Te la condiviso qui Qui a schermo sul computer Arrivo che Il microfono fa un casino Se mi scrivi in chat Ora A fine live Tranquillamente Mi scrivi Ciao ero in live Facciamo una call Facciamo un colloquio Così via Ti condivido Ti condivido questa Non so se la vedi Sto girando lo schermo Che è una brochure Di 61 pagine Si vede là sopra 61 pagine di brochure Quindi È Molto 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 dettagliata Tanto dettagliata Spieghiamo tutto quello Che possiamo spiegare Mi scrivi Mi scrivi in chat Si vedi qua La bellezza di 61 pagine Mi scrivi Mi scrivi in chat Dici che eri in live E che vuoi avere accesso A una consulenza Col team E Dirò al mio team Di condividerti Di mandarti anche La brochure Così te la puoi guardare Puoi studiartela Sono 61 pagine di informazioni Su cosa facciamo Chi siamo Quindi direi che male non fa Quindi Se vuoi capire Mi scrivi Ti faccio Fissare una call Dico al team Quindi condividi la brochure E vedi tutto quanto Posso dire che di formatore in giro Ce ne sono tanti Ma Samuel e il suo team Hanno fatto la differenza Nella nostra vita A questione di una skill Che si distingue dalle altre Grande Mi fa Vediamo se fa ancora Il fuoco d'artificio Sì Grande Mi fa super piacere leggere queste cose Davvero Ciao Samuel Saluti da Trapani Grande Walter Come stiamo? Top Vediamo un po' di domande Che mi ero perso prima Come hai vissuto Come hai vissuto La tua prima collaborazione In maniera inconsapevole Con troppa inconsapevolezza Diciamo che io Non ho fatto Come fanno oggi I nostri studenti banalmente Che studiano Per la collaborazione Io ho iniziato la collaborazione E poi ho studiato Quindi con molta inconsapevolezza Mi sono ritrovato lì Però bene Bene L'inconsapevolezza indirettamente Ha portato anche Più tranquillità E meno Ansia Possiamo definirla così Meno pressione Perché ero inconsapevole Non sapevo quello che stavo facendo Al cento per cento Quindi con inconsapevolezza Sì però bene Bene Ho fatto ottimi risultati Nel giro di qualche mese Era anche un mercato diverso Però nel giro di qualche mese Ho superato i 10.000 di guadagno In 30 giorni con la vendita Quindi bene L'ho vissuto sicuramente bene Troppo inconsapevole Ciao Samu Un saluto da Melbourne Cavolo Melbourne non è male eh Ti verrò a trovare Ragazzi che mi leggete Date letta questo ragazzo Super garantito Grande Patrick Super super bello Leggere questa cosa qui Ti sei buttato insomma Sì mi sono buttato assolutamente Diciamo che dopo aver fatto Un botto di cazzate Con alcuni modelli Di business Ho fatto vendita E Ho ottenuto risultati Poi ho Con i risultati Ho invece nella formazione Fino ad arrivare a una Conoscenza Che è quella di oggi Però sì mi sono buttato Al cento per cento direi Dove vivi di bello? Io sto a Tenerife ragazzi Dai ora vado fuori Quasi quasi Finisco la live Sul terrazzo Così Vedete Un po' il mare Che dall'Italia Magari fa freddino Sì c'è anche un bel cielo Di là ci sono le montagne Devo qua a Tenerife È Il mio posto felice Possiamo definirlo così Siete il top Sales consulting Ci sono tanti formatori Lato vendita Quanto meno a livello Per il percettivo Oltre a volte 5-6 In realtà veramente valide Gli altri male male Sì grazie che siamo al top Mi fa molto piacere Sentetelo dire Vediamo altre domandine Grande Ciao Samuel Nessuna domanda Ma solo tanta stima Nei vostri confronti Grande Mi Realmente mi fa un botto Di piacere leggere queste cose Ciao Sam Chi non si affida a te Perde tempo e soldi Grande Questa è bella anche Questa è molto bella Mi piace Spero di risolvere presto le mie cose E di accedere in tempo Allo stesso percorso Noi siamo qui fondamentalmente E Non è Non voglio metterti pressione E fake scarsi Come fanno in molti però A febbraio ci saranno un po' di cambiamenti Quindi Prima è meglio è Mettiamola così Dunque ovviamente auguro anche a te di risolvere Le due cose il prima possibile Non so di cosa stai parlando Ma ovviamente Te lo auguro Cosa serve Per avere residenza alle Canarie Casa In affitto di proprietà Assicurazione sanitaria Lavoro O da dipendente Quindi ho un contratto di lavoro O come nel mio caso Una società E questo Quindi questo è quello che serve Oltre al fatto di vivere effettivamente alle Canarie Poco ma sicuro Mario dice Ho ripeto da poco dopo una pausa di un po' di mesi Hai dei consigli per riprendere al meglio Riprendi Con consapevolezza Segui il processo dell'A alla Z E non pensare che magari Perché ti eri interrotto da un punto Puoi riprendere da quel punto Ogni punto È finalizzato Cioè la massima consapevolezza del punto A È necessario per passare al punto B Se passi al punto B Senza essere consapevole al 100% del punto A Allora Diventa un problema Ok? Faccio l'esempio del surf Come se io Ora Voglio andare a cavalcare onde di 7 metri Senza essere pienamente consapevole Di come si cavalcano onde da 4 metri Mi faccio male Ok? Uguale anche nel percorso Teoria, pratica, collaborazioni Consapevolezza Segui il processo E E' questo E' possibile fare come te Buttarmi e poi studiare Magari 5 anni fa era possibile Ora no Ovviamente un'azienda ad oggi Vuole venditori formati E di qualità Quale imprenditore pazzo nel 2024 Prenderebbe un venditore Senza formazione E sceglierebbe lui Invece di un venditore formato Nessuno Io da imprenditore non lo farei E ti garantisco che Le centinaia di anni con cui lavoro Non lo farebbero Quindi no Non è possibile farlo Sarebbe troppo bello per essere vero Quindi no Ma logicamente Ci arriviamo al fatto che Non è possibile Lavorare e poi studiare Non è possibile Cosa ne pensi di persone bravissime E che hanno ottenuto grandi risultati Vendendo in primis E che ora si mettono a insegnare Tale skill al mercato Non avendo una struttura rodata Come ce l'avete voi Hai già capita che mi riferisco E guarda ti dico cosa ne penso Penso che Boh fanno bene E' quello che ho fatto anch'io Quindi non Nulla contro di loro Il problema è il fatto che Se vendi Una competenza come questa È fondamentale Avere un ecosistema Tale da poter Reggere una competenza come questa Ok? E se non ho Collaborazioni con aziende Ma tante collaborazioni con aziende Con costanza Ripeto L'1 di novembre ad oggi Abbiamo condiviso con gli studenti Quasi 70 realtà aziendali Quindi una ogni giorno e mezzo Una ogni due giorni Ognuna che chiedeva Più di un venditore Da inserire nel team Se non hai Questo ecosistema Questa struttura Diventa complicato Perché poi Le persone non hanno risultati Perché poi le altre aziende Lo chiedono a noi Ma c'è altro formatore di vendita Che dà le sue informazioni Però le aziende vogliono i nostri E quindi L'altra persona Che insegna una skill come la vendita Non avrà mai persone Che ottengono risultati Perché le altre aziende Lo chiedono a noi Quindi Poi vero che il mercato è enorme Per me E non ho la presunzione di dire Che il cento per cento Delle aziende Che deve venditore a noi Sarei un ipocrita a dirlo Però Dico che se non hai questo ecosistema Diventa molto complicato E far ottenere reali risultati Diventa molto difficile Poi 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 Domanda divertente Gli imprenditori con cui si collabora Sono meglio Dei datori di lavoro Beh già La parola collaborazione Dovrebbe farti Capire Che la risposta è sì Un datore di lavoro Tu hai un rapporto Di dipendenza da lui Ok Orario Ritribuzione In base all'orario Collaborazione no Invece Una retribuzione Sulla base dei risultati Lavori da casa Lavori dovunque Nel mondo dove vuoi Ovviamente Non sono qui a venderti in giro Avrai delle responsabilità Avrai delle task Avrai delle deadline Però Sì Assolutamente sì Sono meglio di datore di lavoro Assolutamente sì La risposta è 100% sì Ovviamente Se poi tu vuoi fare il venditore Che non fa un cazzo Dalla mattina alla sera Che sveglia alle 4 di pomeriggio Che non fa un cazzo E non porta risultati Allora L'ultimo dei problemi Sarà l'imprenditore con cui lavora Il problema è Che deve ottenere risultati Fondamentalmente Ma voi che pacchetti avete? Potete aiutare anche un venditore Che sta sui 2k E non riesce a scalare ai 5 bar A 7 mila euro al mese? Questa domanda cade a pennello Ehm Ci aggiorniamo tra qualche settimana Ok? Non Non lascio altre dichiarazioni Tra qualche settimana I primi di febbraio ci aggiorniamo Mettiamola così Poi Quanto costa il corso che vendi? Ci sono molte variabili Per quanto riguarda il percorso E tutto quanto Il mio consiglio più grande Come dicevo anche prima È quello di Scrivermi in chat Ci facciamo una chiacchierata Ti fisso una call con un consulente Ti faccio mandare dal consulente Una brochure repilogativa Di 61 pagine Di quello che è il nostro percorso Di quella che è questa abilità Delle aziende con cui lavoriamo Tutto quello che ti può servire Parli col consulente Capiamo anche bene bene Quelli che sono i tuoi obiettivi E la tua base di partenza Uniamo i puntini Per capire di cosa hai bisogno A livello formativo A livello consulenziale Da parte nostra E ti stiriamo anche quello Che è un prezzo ad hoc Sulla tua base di partenza E sui tuoi obiettivi Ok? Questa è la risposta più Concreta che posso darti In ogni caso scrivimi in DM Ti faccio fissare una call Che è ovviamente gratuita E poi ti faccio mandare la brochure E tutto quello che serve Anche perché ragazzi Parliamoci chiaro Prima nella live L'ho fatta vedere Chi cazzo è che nel 2024 Ha una brochure di 61 pagine Così dettagliata Dai Scrivetemi Fatevela dare Gratis La regalo Una brochure fatta apposta per voi Il tuo prossimo obiettivo Beh sicuramente è crescere Come persona Come imprenditore Come surfista Quindi obiettivi in diverse aree Sia personale Che imprenditoriale Che relazionale Che sportive e quant'altro Se parliamo in termini imprenditoriali Quindi lasciamo da parte Surf Vita privata Relazioni E tutto quanto Il prossimo obiettivo È quello di Fare ottenere sempre di più Risultati A sempre più persone Il 2024 Voglio che sia Un anno Non che gli altri anni Non lo siano stati Perché ho fatto i calcoli A fine anno Eravamo a quasi Quasi Non mi ricordo i numeri precisi Però quasi A 200 nuove persone Che hanno ottenuto grandi risultati L'anno scorso E con risultati Non vuol dire un mese di risultati Ma vuol dire costantemente risultati 200 persone In un anno Sono più o meno Una persona ogni giorno e mezzo Quindi Ottimo anno L'anno scorso Quest'anno vorrei fare un per due Quindi almeno 400 persone nuove Che hanno ottenuto grandi risultati E non sarebbe affatto male Io sto proprio aspettando febbraio Per le novità Per proseguire con l'upgrade Ora sto iniziando a lavorare grande Inizio a fare i primi risultati A fare le prime esperienze A fare le prime call E tutto quanto Senza troppa pressione E a febbraio ci vediamo Ne parliamo Raffaele chiede Cosa ne pensi della meditazione Barra visualizzazione Penso che sia utilissima Ok? Io ho fatto un periodo della mia vita In cui meditavo ogni mattina E mi ha aiutato veramente tanto Quindi molto utile La consiglio E la visualizzazione La utilizzo ancora oggi In tutto e per tutto Parlavo qualche sera fa Con un mio amico Che vive a Parigi Un mio ex compagno Sia del liceo che dell'università Quindi un po' di anni fa E sta facendo un concorso Per entrare a lavorare In Louis Vuitton E ho fatto design E compagna bella E mi fa Cavolo sto Sto pensando già Come se mi avessero preso Sto già vedendo Sto ragionando proprio su Quello che farò Una volta che Louis Vuitton Mi ha preso Quindi anche questa pratica Questa pratica Questa di agire Come se le cose fossero Già accadute Visualizzare Questa cosa qui È potentissima La consiglio anche ai miei amici Quindi la consiglio anche a voi Visualizzate e fatelo Assolutamente Perché Perché nel 2024 Ci sono tantissime persone Che ancora puntano E spendono tanti soldi E tempo Nella ricerca Di lavori statali Bandi pubblici Con possibilità di crescita Veramente ridotta Perché la sicurezza Perché la sicurezza E questa finta sicurezza Questa illusione di sicurezza Fa sempre gola a tutti Lo stipendio fisso Fa gola Lo stipendio fisso È sexy Per le persone Per me non è sexy Però per molte persone è sexy Non so giudicare questa cosa Però oggettivamente è così Ci sono un sacco di persone I miei amici Persone che conosco benissimo Ma persone che non conosco Che preferiscono avere La garanzia di uno stipendio fisso Un po' più basso Ogni singolo mese Che doversi guadagnare ogni mese Uno stipendio un po' più alto E sono così le persone Non c'è da giudicare C'è da accettare E renderci conto che Più persone la pensano in questo modo Più ci sarà spazio Per noi persone Che la pensiamo in un altro modo Dopo quanto tempo Hai iniziato ad avere Un'indipendenza economica grande E quanto tempo ci hai speso Indipendenza economica Ragazzi è una parola molto forte Dopo diverso tempo Non dopo una settimana Non dopo un mese Dopo diversi mesi Non mi so dire esattamente Quanti mesi precisamente Però dopo un po' di mesi Non ve lo so dire onestamente Con certezza Però vi posso dire Che da quando ho iniziato A buttarmi nell'online E ho fatto self-publishing Drop, Amazon SBA E quelle cose lì E a quando realmente Ho raggiunto la mia Indipendenza economica Sicuramente Più di un anno e mezzo È passato Abbondantemente Da quando è iniziata A fare vendita A quando ho raggiunto La mia completa Indipendenza economica Con una parola sicuramente forte Ti dico Meno di un anno Ma più di tre mesi Sicuramente Precisamente Non te lo so dire Ecco Piuttosto che buttarsi Nel mondo online Partendo con La libera professione È per quello che dicevo prima Perché la gente ha paura La gente È tranquilla Nel pensare Che sia tutto Tranquillo È felice Nel pensare Che sia che lavora bene Sia che lavora male Lo stipendio È sempre quello È felice Nel dare agli altri La responsabilità Del suo futuro Del suo stipendio Del suo guadagno È questo quello che fanno Perché alla fine C'è un detto famoso Che dice Se tu Non stai rischiando Se non stai Se non hai le pare Di rischiare Allora lavorerai Per qualcuno Che ha rischiato E sta rischiando Al posto tuo Quindi se la gente Non vuole rischiare È più tranquilla A fare un qualcosa Senza rischi Ad affidare Il rischio del suo futuro A qualcun altro Questo è il motivo principale Poi generalizzando Ovviamente La risposta peculiare Per ogni persona Ovviamente Sarei troppo forte Ciao Ho iniziato una settimana Al vostro percorso formativo Sono ancora più contento Di aver fatto Un'ottima scelta Sono un dipendente pubblico Da più di vent'anni Grande Sergio Mi fa super piacere Sei molto fresco Sei iniziato la settimana scorsa Quindi grande Sono molto molto contento Consiglio è Segui il processo Segui il percorso Dopo vent'anni Di dipendente pubblico Sicuramente È una bella scelta È una bella presa Di consapevolezza È un bel passo in avanti Quindi sono contento Che l'hai fatto Assolutamente Molto 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 contento Ti direi che Ci risentiamo Da qui a qualche mese Per fare anche Una bella intervista E in consulenza Prima di Prima dell'intervista Se ne hai bisogno Quindi assolutamente Grande comunque Sono molto contento Davvero Ti piace La natura Ad esempio Flora fauna Con il mare e il sole Ragazzi Sì Lo dico sempre Svegliarmi la mattina Con questo Con il mare Con il sole È clamoroso È bellissimo L'altro ieri Sì l'altro ieri Ho fatto un'alba In acqua surfando Bellissima ragazzi Un'alba strepitosa Veramente veramente Non posso descriverla Magari Vi do un piccolo spoiler Vi do un piccolissimo spoiler Perché appunto L'altro ieri Ho fatto un'alba in acqua Ho fatto anche un video vlog In cui Registravo No? Un po' la mia giornata E tutto quanto Ho noto un video bellissimo Secondo me Però Appunto Ho ripreso l'alba Dell'altro ieri mattina Perché era un'alba clamorosa Vi faccio vedere un minimo L'alba che ho visto Andando Da casa mia Allo spot di surf Qua a Tenerife Eccola qui Vi giro lo schermo Ma ditemi se Aspetta che cosa Detemi se vedete Metto in muto Perché è un video Che dovrà uscire tra un po' di settimane Quindi Però non ve lo faccio vedere Guardate che alba Guardate qui Erano le 7.40 di mattina Guardate che splendore Mamma mia Bellissimo ragazzi Bellissimo Quindi sì Mi piace Natura E tutto quanto Altrimenti Non vi verrete nei rifiuti Magari a New York Dubai Allora Molti che vendono la skill della vendita Provocano questo skill In contraposizione A vari modelli di business Ma poi gli studenti Offrono una collaborazione Con persone che vendono corsi Sul drop trading Ma che la vendono come vogliono Onestamente E io quello che ho sempre detto È quello che penso E E non Non dirò mai il contrario Per me non Cioè Non Non sono una cosa negativa Agli altri modelli di business Anche perché La vendita non è un business Lo sappiamo benissimo Però non è una cosa negativa Fare drop shipping Fare trading E tutto quanto Serve affidarsi a persone consapevoli Serve essere consapevoli Di quello che si fa E Serve avere consapevolezza Che partire da questa cosa È rischioso È molto rischioso Perché Metti Te stesso I tuoi soldi A rischio Molto di più Se io ho una competenza La sviluppo E collaboro con qualcuno Che mi fa sviluppare questa competenza Vado a rompere il muro del collegamento Tra orario di lavoro E retribuzione Vado ad aumentare i miei introiti Vado a slegarmi Da un ufficio fisico Da un'attività fisica Da una dipendenza Di altre realtà aziendali Compagnia Bella E Mi creo la mia libertà economica Senza rischiare Perché valiamoci chiaro Non voglio deposizionare Chi fa drop shipping E Compagnia Bella Però avere una storia di drop shipping costa Un dominio costa Creare un sito costa Le ads Le sponsorizzate Costano un sacco di soldi Ok? Tratta di chiedere a alcuni drop shipper Quanto spendono di ads al giorno Tanto Se tu parti da zero È il tuo primissimo storia di drop shipping Magari devi spendere 5 mila euro Il primo mese in ads È cavolo Poi possono andarti bene O andarti male Di quei 5 mila Puoi sì Avere un ritorno di 7 mila Quindi sei in profitto di 2 mila Però puoi anche avere un ritorno di 3 mila E quindi essere in perito di 2 mila Quindi questo Ciao anch'io se l'informazione con voi Mi sento gasata Grande Mi gasano mai queste cose qua Le faccio il pollicione Vediamo se esce qua su Instagram Top Grande pollicione La tua più grande ambizione È essere felice? È questo Questa è la mia più grande ambizione Io in questo momento Dico con totale sincerità e asparenza Che sono felice Sono nel posto in cui voglio essere Con le persone con cui voglio stare Ho degli amici bellissimi Se qua che in Italia Che amo tutti Ho una ragazza bellissima Ho delle passioni bellissime Mi sto appassionando Al surf Che è una delle cose più belle Che ho mai fatto Ho una realtà aziendale Con dei collaboratori fantastici Ho un sacco di studenti che mi stimano E che hanno cambiato la loro vita grazie a me Quindi sì Ora sono felice La mia ambizione È essere felice Da ora in avanti Fare la closer Da stabilità e sicurezza nella vita Ti faccio una domanda Cosa da stabilità e sicurezza nella vita? Un lavoro dipendente? No Perché se l'azienda fallisce O ti metti in cassa integrazione Come ho avuto un sacco di persone Nel 2020 Sei col culo per terra Quindi entriamo nell'ottica Che stabilità e sicurezza nella vita Sono parole che non esistono Ma non perché non esistono Nella vendita Non esistono nel business Non esistono in niente Ok? Neanche se lavori Soprattutto se lavori con una Come dipendente E quello che fai Nelle mani tue Perché sei nelle mani di scelte Di altri imprenditori Che possono fare Lasciate giuste Lasciate sbagliate E se le fanno sbagliate Sono cazzi tuoi Perché sei tu che sei nella merda Quindi La sicurezza non c'è Però prima lo capiamo Meglio è Prima ci rendiamo conto che Andiamo a garantirci noi Un futuro rosio Un futuro fatto di risultati E di crescita Perché il problema è Che la gente confonde La stabilità Con il Ok non faccio un cazzo Per tutta la vita Faccio le stesse cose Per tutta la vita In realtà no Stabilità vuol dire Essere a tuo agio Nel comprendere Che per mantenere costanti I risultati Devi crescere costantemente Tu come persona Come professionista Come conoscenze E compagnia bella Ok? Questa è la stabilità E tu sei consapevole Che per avere Essere più risultati O per avere gli stessi risultati Serve crescere Come persona Informazioni Conoscenze E quant'altro Allora si sei stabile Perché continuerai a crescere te E di conseguenza A mantenere costanti I tuoi risultati Animali Sam ne hai? Qua a Tenerife no Anche perché in realtà Dove sto in affitto Questo non è permesso Ad avere animali Meglio Perché la mia ragazza Voleva un gatto E mi stavo quasi per Per fottere Lo stavo per prendere Un gatto del Bengala Però no Non ho animali qua In Italia I miei genitori hanno Due cane Avevano ora uno solo Ahimè Che in realtà È un mio cane Si chiama Spritz L'ho preso Vivo ancora con loro Nel 2014 Quindi dieci anni fa È un border collie Nero e bianco Ma qualche foto Non ho mai messo foto con Spritz La faccio vedere Dai qua sul computer Se la trovo Intanto vado avanti Con le altre domande Ma vi condivido Il mio cane Il cane dei miei genitori Alla fine in Italia Questa è bella Questa la devo scrinnare Aspetta Ti rendi conto Che se tu e Tommy Non partivate con questa avventura Noi tutti Non avremmo avuto questa possibilità Grazie Raga davvero Grazie mille Fa molto piacere Grazie a voi Di scrivermi queste cose qua E di Esservi comunque affidati a voi Fa sicuramente piacere Intanto vi sto cercando Vi faccio vedere qui Una foto un po' ecocentrica In cui sono in acqua a surfare Di cui vado molto molto fiero Vabbè Al di là di questo Ora vi cerco il cane Non c'è la funzione cerca Come sull'iphone qui Arrivo eh Cerca Cerca Perfetto Cani Eccoci qua Questa è Spritz Guardate che bella Bella eh Molto bella Vi faccio vedere anche un foto Un reperto storico Oddio Questo sono io quando avevo molti pochi anni con Spritz Che anno è questa? Eh cazzo non ce l'hanno Però sarà tipo 2016 Sono io con Spritz nel 2016 Bello eh Molto bello Molto bello Col freddo Wink La giacca Cappello eh Sicuramente non stavo a tenerifero questo poco ma sicuro Quali criteri dovrebbe analizzare una persona per affidarsi ad un formatore Non per forza la tua vendita Perché ci siete voi Ma per ogni area Quali criteri analizzi anche tu? Eh ragazzi La concretezza dei risultati Il tempo che è sul mercato Questo fa la differenza Perché davvero Se uno spunta da qualche settimana Cavolo Come fai ad essere sicuro che tra qualche settimana non sparisca ancora? Questo quindi Risultati Quantità e qualità dei risultati La trasparenza che porta Non voglio fare riferimento solamente a noi eh Però Una cosa a cui tengo io è nelle interviste che facciamo Lo vedete tutti quanti nelle interviste che pubblichiamo Fa vedere non solamente i lati positivi Ma anche le difficoltà Le paure affrontate E magari le collaborazioni andate male con altre aziende Lo facciamo sempre evidenziare per avere massima trasparenza Quindi trasparenza, quantità e qualità dei risultati Tempo che è sul mercato Ovviamente informazioni di cui parla Perché se parla di una cosa che non mi interessa O che già so Quello non È sicuramente un campanello d'allarme Nelle tue sponsorizzate Dici fino a 5K Il doppio Ossia 10K Sono realistici? Sì sono realistici Ho pubblicato uno screen Qualche giorno fa Ve lo faccio vedere Quanto valore vi sono in questa live ragazzi Non era neanche previsto Era nato come un live Q&A Vi faccio vedere Una cosa Vi apro il canale telegram Di uno studente Live Qui Facciamo finta Ah tra l'altro È qui lo studente Ale Alessandro Ti vedo Sto per aprire il tuo canale telegram Perché mi sei venuto in mente te Ti vedo che sei in live Se vuoi commentare sono solo contento Quindi la domanda è Ecco qui lo studente La domanda era È realistico fare 10K Allora Vi faccio vedere un po' di chat Di questo studente Che ho già pubblicato Ale se sei ancora in live Scrivi pure che sei tu Qui Allora Comunque alla fine ottobre L'ho chiuso con 10K Vabbè Poi dovrei cercare chat su chat Fa niente Vi faccio vedere La chat del fine dicembre Il 5 gennaio 12K finale Con minero di buono Finita 10K a dicembre Ok Quindi Quindi sì È possibile Ale in questo caso Ha fatto 12K a gennaio A dicembre Pardon E avete visto anche ottobre Chiuso con 10K Quindi è possibile Ale l'ha fatto tra oggi a domani No Ti prenderei per il culo a dirti Che l'ha fatto tra oggi a domani Se non sbaglio L'ho entrato nel nostro percorso nel 2021 Quindi Quindi due anni fa Ok Ho fatto un percorso Non immediato Abbastanza lungo I primi risultati Erano sicuramente più bassi Poi con tempo costanza E con crescita Ha ottenuto questi risultati Quindi sì È sicuramente possibile Ottenerli Non facilmente Non velocemente Non con un sacco di vita Però è possibile Assolutamente Io in primi ce li ho raggiunti E Ale è il primo che mi è venuto in mente Eh Però sì È sicuramente possibile Comunque Vi ricondivido la qualità di questa live Abbiamo parlato di brochure Quindi una brochure con 60 passapagine Vi ho fatto vedere in live Un gruppo telegram di uno studente Ok Guardate Ok Quante chat È stato fatto Solo nel 2023 ci sono state con Ale Non so se ci rendiamo conto Solo nel 2023 questo è il supporto che abbiamo dato ad Ale Guardate da quanto tempo c'è questo canale telegram Non so se ci stiamo Ok Ok Faccio vedere anche quando è entrato lui con noi Così Siamo trasparenti al 100% Dicevo del 2021 No Ancora prima Inizio del 2021 Sì Vabbè non vado fino all'inizio Però insomma Ok Ok 27 gennaio 2021 E da qui Abbiamo fatto Ormai Quasi quattro anni Perché oggi è il 13 gennaio Quindi tra due settimane il gruppo di Ale Compie due Compie quattro anni No Tre anni Perdonatevi Guardate la bellezza Di quanto Quando parliamo di supporto costante Cioè Questo è quello di cui stiamo parlando Tre anni Di Supporto Ogni singolo giorno Ogni giorno Ragazzi Cioè Sto andando veloce come un drago Per scorrere questa chat Ma ogni singolo giorno Ci rendiamo conto? Fino ad arrivare a oggi 5 gennaio Cioè l'ultimo messaggio del 6 gennaio Quindi oggi è il 13 Una settimana fa Diceva dicembre Chiuso Con 13k Grande Ale Ottimi risultati Direi che in tre anni Hai fatto Un bel upgrade Che dici Non è male Allora Guys Altre domande Volevo essere una live Di Mezz'oretta Risposta a Q&A Ma hai editato una live Di un'ora infinita Anche perché devo pranzare Che tra mezz'ora Ho un'altra call E poi devo andare a surfare alle quattro e mezza Quindi devo volare Allora Ma quanto ore al giorno bastano Per raggiungere risultati buoni? Dipende da un sacco di variabili Grande Top Gente che mi saluta mi piace sempre Buon weekend a te E quanto ore bastano? Allora Allora Per il periodo formativo Quello che consiglio è sempre Di avere Quanto meno Un 60 90 120 minuti Al giorno Col cervello Quindi non servono 7 ore al giorno Però Neanche 10 minuti Ovviamente Se siete dati un'ora e mezza Al giorno Di studio Costante E la parola costante La sottolineo E la sottoscrivo Perché deve essere costante Allora per studiare Ce la fai tranquillamente Ok? Per Fare svolgere effettivamente L'attività del venditore Quindi Realmente collaborare con le realtà aziendali E tutto quanto Quante ore al giorno bastano Dipende da Quante col fai Quante col vuoi fare Il ticket medio Il closing rate E compagna bella E Però ti posso dire che Con un tranquillamente un part time Puoi ottenere ottimi risultati Ok? Ora Se la domanda è Alessandro Il ragazzo di cui ho condiviso Il canale Telegram prima Con 3 ore al giorno Fa 13 milioni in un mese? No! Assolutamente no Lui lavora Diversi ore al giorno Non mi ricordo esattamente quante Però tranquillamente 7-8 ore al giorno Ne lavora Sicuramente Ok? E' impossibile Non puoi fare 10-12-13 milioni in un mese Lavorando 3 ore al giorno Non è possibile Per ottenere buoni risultati Puoi farlo Lavorarlo in maniera part time Abbiamo studi che lavorano Fanno il venditore Nel frattempo Fanno Lavorare Dipendente Viene in mente in questo momento Lorenzo Che tra l'altro Ha dato la dimissione un mesetto fa Lui lavorava in stazione centrale Milano E E ora ha fatto da più o meno maggio giugno Sia il venditore Che il dipendente Ora ha deciso di dare solamente Di fare solamente il venditore Perché Otteneva ottimi risultati Più dal venditore Che dal dipendente Quindi ha deciso di Mettersi full focus su quello Grande Samu Grazie a voi al mio impegno Ho cambiato la mia vita Ora sto lavorando per crescere come venditore a persona Grande Francesco Super contento Grazie a voi E al tuo impegno Ricordatelo perché sicuramente Ne abbiamo fatto tanto Ma non tutto Senza il tuo impegno era infattibile Quindi per rispondere all'ultima domanda Che avete fatto prima Quante ore bastano Per studiare Qualche ora al giorno Per mettersi in pratica Non c'è un'ora Cioè mezz'ora al giorno È sicuramente impossibile Un'ora al giorno È più difficile Con qualche ora al giorno Si possono rendere buoni risultati Per fare buoni risultati Con la B maiuscola Servono più ora al giorno Ovviamente Ultima domanda ragazzi Poi vi lascio che devo pranzare in 30 minuti Che poi una colta mezz'ora E Quanto è il capitale minimo Per entrare nel percorso Dipende Da obiettivi Conoscenze di base E tutto quanto In generale Si parte da una base di 1000 euro Più o meno ragazzi Meno Cioè avete visto Il gruppo di Alessandro In cui ci sono Quattro coach a rispondergli E garantiamo risposta In 24 ore 7 giorni su 7 È dal 2021 Che lo supportiamo Sono tre anni Gli diamo consigli Che lo supportiamo E tutto quanto Quindi È impossibile Avere tutto questo a meno Tre anni in cui Oltre che il canale Telegram Le informazioni Le masterclass Le consulenze private E mille altre cose Quindi Ovviamente Base di investimento Intorno ai 1000 euro A salire ovviamente Volevo dire una cosa Sì una cosa bella Che poi vi lascio veramente Una cosa bella Che mi ha fatto sicuramente piacere Farvi notare Col canale di Alessandro È quanto una volta ottenuti I risultati Ci sia comunque Costante Supporto e condivisione Da parte nostra con gli sfetti Cioè nonostante non è Una persona da prendere Poterà il risultato E basta Finita lì Ma c'è scambio Scambio di risultati Veloci di con i loro risultati Non rispondiamo Diamo consigli Quindi Quell'ecosistema Molto bello Molto proattivo E molto utile per tutti Questo mi fa sempre piacere Salutami Tenerife Arriverò anch'io Te la saluto Ti saluto Le onde Oggi pomeriggio I palloncini Sono sempre carini Bombe ragazzi Live Molto ricca Quasi un'oretta 50 e passa minuti Vi ho fatto vedere La brochure Il canale di Alessandro Avete visto un botto Di persone qua In chat Molto contente Sia gente che ha Appena dato nel percorso C'è gente già più rodata Che nel percorso da diversi mesi Che ha già trotto risultati Ho risposto a Una miriade di domande Questa live qua Me la metto in evidenza Perché sarà Sarà utilissima Salute dalla Svizzera fratello Grande Volevo venirci in Svizzera Perché c'è una surf pool Una piscina con le onde Per surfare Bellissima Però era chiusa Quando ero in Italia A dicembre Quindi verrò Verso aprile maggio Volentieri Le truffe Come fare a capire Ah si l'avevo letto questa domanda Non l'avevo risposto prima Come fare a capire Quali sono le truffe Su questo ambito E ragazzi Capite le promesse Chi è a raccontarvi Che con mezz'ora al giorno Fate pagate dei soldi Senza fare nulla Con software automatici E-commerce passivi E robe così Cioè Usate la logica Per capire quali sono le truffe Poi vi ripeto Devo andare a mangiare Però Cioè cosa sono le truffe Tutto quello che è troppo bello Per essere vero È una truffa ragazzi Non Che cazzo C'è gente che veramente vi promette Guadagni automatici Senza fare nulla Ehm Di migliaia di euro Ehm Cioè In che senso Come può essere Una cosa realistica Quindi Come fare capire le truffe Capite le testimonianze Che hanno Guardate bene tutte le pagine Testimonianze Basate Cioè bilanciate Quali sono le promesse E la verità delle promesse Vedete le persone Che si interfacciano con loro Cioè ora Non voglio Mh Non voglio tirarmela Ok Però Ehm In questa live Abbiamo avuto In maniera Completamente organica Io non ho fatto nulla Sette Otto persone Che Entravano ed erano contenti Ehm Cavolo Non è una cosa scontata Ehm Ti promettono 3 miliardi in 90 giorni Prometterti Garantirti X soldi in X tempo È una cosa impossibile Ehm Quindi Accenderai un campanellino d'allarme Come te li promettono? Con una competenza? Con un business serio? O fanno a gara Chi promette più soldi Facendo meno Con e-commerce passivi Ehm Training automatici Software di questo tipo Ehm Bilanciate le varie promesse Le varie cose Sam Quindi questo ragazzi Ci Aggiorniamo nei prossimi giorni Vi ricarico la live Ehm Spacchiamo tutto Mi raccomando Per ogni dubbio o domanda C'è chi garantiva 120 miliardi all'anno Eh Sarebbe bello Garantiti 120 miliardi all'anno Non sarebbe bello Comunque Un'altra persona Che ha visto questa live Sia In live Che la replica Che caricherò O qui o su youtube O entrambe le piattaforme Volete avere Informazioni Consulazioni Con i coach Alla resta la brochure Capire meglio cosa facciamo E così via Mi buttate un bel colpo in DM In cui mi scrivete live La parola live Io capisco che siete stati in questa live Che avete visto queste informazioni E vi rimando ai coach Che faranno tutto il lavoro Nel modo migliore Vi daranno tutte quante le informazioni Che vi piacciono tantissimo Ragazzi è stato un piacere veramente Bella live La ripropongo anche settimana prossima Molto volentieri Fate un buon weekend Io tra poco vado a surfare Ciao a tutti Grazie 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 Grazie